Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, precisamente in zona Taranto 2, dalle parti di via Attica, via Lago di Lugano, e ci siamo imbattuti in un'altra stranezza. Una villetta, un parco giochi attrezzato per bambini, chiuso da almeno da parecchi anni, mi dicono 4-5 anni. Un qualcosa di incredibile. Ma la cosa più strana è che la manutenzione all'interno del parco avviene. L'AMIU, le altre ditte, provvedono a manutenere il parco giochi, a curare il verde, però, come vedete, è tutto chiuso. Il lucchetto sbarra l'accesso. È il secondo caso a Taranto 2 di una villetta chiusa. La prima villetta l'abbiamo trovata in via Scoglio del Tonno in fondo e dopo appena 24 ore rispetto al nostro intervento, immediatamente l'amministrazione comunale l'ha fatta riaprire. Ora noi faremo la stessa cosa qui. Un cittadino della zona ci ha segnalato la problematica e ora noi faremo sì che le porte... Apriti sesamo, dovremmo dire, con riferimento a questa cancellata, a questa porta, chiamiamola così. Ma vi rendete conto? Qui potrebbero venire bambini a giocare, anziani a passeggiare. Ci sono un sacco, dicevo, di giochi per i bambini. Invece no. L'assurdità, la follia è che si spende danaro pubblico per tenere una villa chiusa e per privare noi cittadini della fruizione della stessa. Assessore Lonuce, Assessore dei lavori pubblici, nonché Vice Sindaco. Sindaco Stefano, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Apritela questa benedetta villetta, questo benedetto parco giochi. Tanto sappiamo che le nostre telecamere vi fanno paura e presto la riaprirete. Poi vedrete, amici concittadini.